madre natura ci stupisce ogni volta in questo caso per esempio assistiamo alla bellezza e all'eleganza di un rapace che è in grado di compiere evoluzioni impensabili nel video pubblicato da top vogel due persone sono state messe una di fronte all'altra a formare una fessura quando l'uccella arriva riesce a sfruttare la propulsione per passarvi attraverso più detto leali